La questura di Bari è già al lavoro per fare luce sulla vicenda denunciata dalle Iene nei giorni scorsi. Al centro dell'inchiesta un bed and breakfast a luci rosse, nel cuore del quartiere Libertà, all'interno del quale infatti pare siano stati organizzati incontri tra prostitute minorenni, anche di 15-16 anni, con clienti di età compresa tra i 50 e i 60 anni. Sulla vicenda, che presenta ancora un quadro attente molto fosche, interviene anche Ludovico Abaticchio, garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Non manca in Italia la lezione quotidiana, se non settimanale, di educazione alla salute e quindi alla sessualità nelle scuole. Questo è un paese dove si parla di pornografia, da 40 anni non si organizzano lavori seri nelle scuole, soprattutto per formare i ragazzi. Poi ci sono gli adulti, che sono responsabili chiaramente di maggiormente queste azioni che fanno e quindi sono legati a questo vissuto della ricerca del pagamento del corpo. Non a caso queste cose accadono non solo in Italia, ma esiste anche il turismo sessuale. I minori sono scoperti soprattutto se sono in situazione di povertà. La povertà è una di quelle cose che drammaticamente pesa sugli esseri umani, ma sul minore ancora di più, perché è poi chiaro che la ricerca di un guadagno facile in chi ha difficoltà è minore. È un fatto che sembra quasi spontaneo e conseguenziale. Poi ci sono anche quelli che lo fanno perché hanno interesse a vivere esperienze diverse o anche imitative. So che la procura minorile anche penso che avrà aperto un'inchiesta. È chiaro che se i minori sono individuati, su questi minori bisogna andare molto sul piano psicologico, sul piano informativo, sull'affiancamento, su riportare quelli che sono i valori del rispetto del proprio corpo e del corpo altrui. Quindi c'è bisogno di un lavoro serio dove il sistema sanitario, sociale, istituzionale, insieme alla scuola, perché questi ragazzi andano quella scuola, insieme ai genitori si rendono più responsabili anche di questo affiancamento.